Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing davvero particolare, nel senso che anche io non conosco il contenuto di questo pacco. Infatti, mia mamma, tornando a casa, ha trovato questo pacco fuori dalla porta, quindi nessuno ha suonato e nessuno ha richiesto di niente. Hanno lasciato questo pacco a mio nome, quindi andiamo a vedere insieme cosa c'è all'interno. Onestamente non sto aspettando nulla dall'Inghilterra, però andiamo a vedere che cosa. E' arrivato. Allora, andiamo subito ad aprire. Vediamo, vediamo, vediamo. Sembra anche quasi già stato aperto e poi richiuso, oppure hanno riciclato un vecchio pacco. Vediamo. Non lo so, testamente. Allora. Mamma mia. Ok, adesso apriamolo da quest'altro lato e ci siamo. Allora, vediamo. Allora, ho capito cos'è. Però, ne ho sentito scritto qualcosa. No, niente. Allora, la seconda versione è di Catwoman della DC Collectibles. Sono contento che mi sia arrivata perché avevo la prima versione che mi sia rotta, però non l'ho acquistata, quindi non so da dove arrivi. Vedo che ha qualche differenza rispetto alla prima, quello sì. C'è, gli mancano comunque i fori. Allora, l'unica possibilità è che il venditore che mi aveva venduto la prima e che mi ha detto che non poteva cambiarmela, nonostante si fosse rotta subito nel togliere dalla scatola, ha ricevuto il pezzo sostitutivo dalla DC Collectibles e quindi ha deciso di mandarmela. Anche se in ritardo, parecchio ritardo perché sono passati due anni, altrimenti non saprei proprio da dove arrivi, ecco. Sono comunque contento di averla. Fatemi sapere se volete vedere un video comparativo tra questo e la vecchia versione. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate qui sotto se volete vedere il video comparativo e iscrivetevi al canale. Potete farlo anche semplicemente cliccando sul logo del canale in alto a destra. Per adesso è tutto e alla prossima. Ciao a tutti!